Tutto Food 2019 è il momento di Fox, il noto marchio italiano specializzato nella produzione di patatine, fritte e snack per l'Oreca in compagnia in questa occasione di Antonio Pavone, il responsabile commerciale per l'Italia. Buongiorno Antonio, ancora una volta bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora spieghiamo rapidamente quali sono le novità presentate qui a Tutto Food. A Tutto Food non potevamo che presentare un luxury products, quello che praticamente anelano tutti ormai nel mondo che è il tartufo. Il tartufo, questo tubero che insieme alla patata ha sconvolto le piazze di tutti i mercati, le tavole di tutti i ristoranti, da Dubai a Mosca, Francoforte, Parigi, il tartufo. Il tartufo è un prodotto tipico italiano così come lo sono le patate e non potevamo che battezzare questo connubio. Tanti hanno provato a fare patatine al tartufo e noi probabilmente siamo stati forse tra gli ultimi perché non volevamo sbagliare. Abbiamo messo a punto un prodotto di grandissima qualità con una shelf life di 12 mesi, croccantissimo, e soprattutto un prodotto a cui siamo riusciti a garantire lo stesso prezzo degli altri prodotti, quindi facilitando così l'acquisto, la vendita, non creando difficoltà di gestione ai nostri clienti, ai nostri operatori. Se devo giudicare dai primi due giorni di presentazione, credo che questo prodotto sarà una svolta. E io aggiungo che memore anche dei commenti ascoltati silenziosamente in disparte da parte di coloro che assaggiavano e prima ancora odoravano la patatina al sapore di tartufo. Non è solo buona da sentirsi all'olfatto, ma molto buona al palato. Non vi chiedo come avete fatto perché non si chiede al pasticciere il segreto delle sue ricette. Però devo dire, chapeau, davvero complimenti. Ma noi complimenti fanno sempre piacere. Il punto è che comunque poi i prodotti bisogna venderli, bisogna fare in modo che generino anche del profitto sui nostri clienti. Allora abbiamo privilegiato anche questo aspetto nel packaging, nelle grammature e soprattutto nella shelf life, che per avere una lunga shelf life bisogna avere degli ingredienti di primissima qualità. Cioè non è una scienza. La nostra non è un'azienda dove il sapere diventa sapore. La chimica da noi non interviene. Noi abbiamo un prodotto assolutamente naturale, gluten free, tra l'altro con un claim system molto chiaro. Quindi non possiamo che aspettarci il meglio e augurare il meglio ai nostri consumatori. Complimenti per questa nuova referenza. Bellissima a vedersi, buonissima all'olfatto e al palato. Ma anche per tutte le altre che nel frattempo loro guardavano mentre tu parlavi. Avete tanti prodotti, tutti perfettamente identificabili attraverso il packaging che è molto ben curato. E volendo approfittare di questa occasione per cercare di mettervi in contatto. Qual è la casella di posta elettronica a cui possono scrivere eventualmente per entrare in contatto con voi e chissà creare una partnership commerciale? Possono scrivere, telefonare, fare tutto quello che vogliono sui social. Comunque io ci metto la faccia a.pavonechiocciolafoxitalia.com H24 H24, bravo Antonio, è così che si fa. Grazie per la collaborazione e noi continuiamo. Grazie e arrivederci a tutti.